Conferenza stampa per la presentazione dell'edizione 2018 della mezza maratona di Treviso. Oltre 3.000 atleti di 27 nazioni diverse pronti al nastro di partenza per l'evento del 14 ottobre che si presenta in questa edizione con ulteriori novità. Un percorso di 10 km aperto a tutti oltre a tradizionale di 21 e l'apertura con visita guidata per i partecipanti ai musei Luigi Bailo e Santa Canterina sono le nuove proposte del team organizzativo capitanato dall'ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol. Quinta edizione della mezza di Treviso. I numeri dicono che questa mezza piace sempre di più. Ma sì, quest'anno stiamo toccando e superando addirittura i 3.000 iscritti e quindi siamo veramente soddisfatti e orgogliosi di questo gioiellino che abbiamo domenica prossima. Quote rosa presenti, una quota rosa importante che ho presente all'interno degli iscritti. C'è anche un nuovo percorso. Qual è la novità di quest'anno? La quota rosa, a dire la verità, è già dalla prima edizione che ci sono state sempre tantissime donne iscritte. Quest'anno superiamo le 800 unità, che è un gran risultato. e poi abbiamo inserito la 10k e 10 km per far sì che anche le persone che non riescono a correre 21 km possano cimentarsi in questa 10 km. Bellissima, l'ultimo prezzo, l'ultimo pezzo lungo l'area estera e anche per loro sarà un percorso fantastico. Magari il prossimo anno potranno passare dai 10 km alla mezza. Sicuramente sì, l'obiettivo è questo. Quindi dai 10 km quest'anno e il prossimo anno saranno quelle che faranno la mezza maratona e poi ci sarà chi è principiante e farà i 10 km. Quindi diciamo che abbiamo voluto inserire questa 10 km appunto per dare questa possibilità e ci sta dando ragione. Chi correrà domenica cosa deve sapere? A Treviso come funzionano le cose? Ma a Treviso chi correrà domenica sa che intanto deve arrivare in zona partenza agli orari prestabiliti e quindi prima ci sarà la corsa della 10 km alle 9.40 e alle 10 in punto si parte con la mezza maratona, la quinta edizione. E dal punto di vista organizzativo quali sono le peculiarità, i valori dell'organizzazione? Noi dall'inizio poi per il mio carattere cerchiamo di fare le cose al meglio per questa manifestazione dando la massima assistenza a chi viene a correre questa mezza maratona e la 10 km naturalmente con l'aiuto del comune di Treviso e gli altri comuni Villa Orba, Carbonera e Silea. Naturalmente poi tutto lo staff che mi segue che è importantissimo infatti li ringrazio, ringrazio tantissimo tutto il mio staff perché stanno facendo un lavoro in anno in anno sempre più impegnativo perché è sempre più impegnativo dare sicurezza ai partecipanti e dopo un ultimo voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci permettono di far sì che questa manifestazione possa crescere che sicuramente senza di loro non potrebbe essere così. Chi decide adesso di iscriversi? Come deve procedere? Adesso ha tempo fino all'11 di ottobre e sicuramente ci saranno tante altre persone poi l'appuntamento è per venerdì all'Expo, venerdì e sabato presso l'Hotel Maggior Consiglio da venerdì dalle 14 alle 20 e sabato dalle 9 alle 19 e poi tutti alla partenza domenica mattina. Sport, cultura e paesaggio, il mix vincente di questo evento che vede Treviso nel centro dell'attenzione e la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale. Eccoci con il sindaco di Treviso alla presentazione della mezza di quest'anno 2018 un evento che coinvolge più comuni e che propone la città di Treviso anche sotto un'altra veste ovvero quella culturale. Sì, siamo ben lieti ovviamente di ospitare per la quinta edizione la mezza di Treviso che deve continuare a crescere nel nostro territorio. Quest'anno abbiamo aggiunto l'aspetto culturale quindi rendendo gratuitamente accessibili i musei della nostra città ai familiari e agli atleti. Credo che sia un bel connubio sport e cultura per far esaltare ancora di più questo grandissimo evento per la nostra città, per lo sport e per la cultura trevigiana. Numeri che crescono di anno in anno significa che si sta lavorando sulla strada giusta? Sì, qualità della città che l'accoglie, qualità degli organizzatori, qualità dell'evento non può portare altro che alla crescita dei numeri degli iscritti e sono convinto che sarà continua questa crescita vista la grande professionalità di coloro che stanno organizzando, vista la grande preparazione della città per accogliere tutti gli atleti e vista anche la grande tradizione sportiva della nostra città. Ringrazio in modo particolare quell'esercito di persone silenziose che stanno lavorando alle spalle di questo grande evento perché dietro ogni grande evento c'è un esercito di volontari che getta ogni giorno il cuore oltre l'ostacolo. Mezza maratona di Treviso che cresce nei numeri, importante anche la Quattarosa. Sicuramente direi che ormai a livello sportivo sta sicuramente avendo veramente un'incidenza notevole, la Quattarosa sale, sale un po' in tutti gli ambienti ma io lo vedo nello sport in questo momento, siamo ben felici di vedere che finalmente anche le donne partecipano ed alzano questi numeri e ogni anno salgono e quindi è una grande soddisfazione. Noi speriamo che questo sia proprio un trend, desideriamo vederlo ormai un po' dappertutto, è una battaglia di sport avanti da tempo e lo sport forse è il primo che proprio esprime questa voglia di mettersi in gioco. è sicuramente comunque un'occasione, io dirà delle donne, la partecipazione maschile e femminile è bella la partecipazione condivisa, cioè vedere che questi numeri salgono soprattutto quando una manifestazione come in questo caso è una manifestazione proprio sportiva nel vero senso della parola. Abbiamo un grande campione dello sport che la organizza, rispecchia e voglio dire che secondo me è l'onore anche per Treviso, per noi come Veneto veramente perché è un campione che rispecchia quelli che sono tutti anche i valori dello sport e credo che questo debba rientrare nell'organizzazione delle grandi manifestazioni. Devono esserci i valori, i valori di condivisione, i veri valori dello sport che sono competizione ma sono proprio anche generalizzati al fatto di partecipare in tanti, di condividere i posti, i luoghi. In questo caso è meravigliosa perché insomma si snoda a lungo anche la restera tutta la parte dell'Alzaia e le zone comunque limitrofe a Treviso che sicuramente sono una cartolina meravigliosa per chi godrà sia ovviamente del beneficio fisico magari anche del risultato poi tecnico ma soprattutto anche del fatto di essere immersi in un territorio meraviglioso. Quindi credo che sia un connubio. Adesso quest'anno poi lo colleghiamo anche tutto questo discorso di cultura, di turismo legato ai musei. Penso che sarà veramente un evento che spero sia veramente ricordato sia il lancio per una nuova mezza di Treviso vista proprio in un'ottica a 360 gradi. Quindi ringrazio veramente gli organizzatori e in particolare appunto Salvatore Bettiol che rimane sempre grande campione per una persona che comunque ha fatto parte dell'Atletica in gioventù. È un onore essere qui oggi in questa veste.